Video brutti parte 1. Ma vi ricordate quant'era bella internet e in particolare YouTube nella sua bruttezza iniziale, quando era poco frequentata e ci potevano essere dei video virali basati sul niente, su un'idiozia ripetuta, con una videocamera sgranata, improvvisati, come fatti così, come se fossi sdragliato in un letto con un comodone di spugna, semidistrutto, infestato da acari e sproloquiasci del più e del meno, magari con un tono particolare.